Sezione, questa sera conosceremo il primo finalista, poiché dei tre sfidanti in gara soltanto uno andrà alla finalissima del 7 agosto. La prima cantante per la sezione interpreti l'accogliamo con un bel applauso è Francesca Pezzin. Benvenuta, Francesca raggiungiamo il centro del palco, grazie Alessia, ah deve farti la foto, ha ragione. Voglio ringraziare il nostro Maurizio Brighenti, il fotografo della serata che è qui con noi e ci fa tante belle foto. Torniamo a noi Francesca, quanti anni hai? 29. E vieni da? Monticello Conteotto. Il titolo del brano che ci presenti questa sera? The Greatest Love of Wall di Whitney Houston. Però, complimenti. In bocca al lupo, un bel applauso a Francesca Pezzin. Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Il titolo del brano che ci presenti questa sera? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti